benvenuti in un nuovo episodio di dietro le quinte vi faremo vedere, siamo con un esemplare di busu e non basta! il cazzeggio che avviene di no bene, esprimici la tua opinione su quello che sta succedendo boh, chiedi la sgab che è un cazzo di n***a no no, la Subaru Baraka fa scattare clonch chef Lough chef Lough chef Lough stop oh 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 Dolcezza e rispetto E' un po' di Busu, forse non salta Man, esprimici la tua opinione su quello che sta succedendo Oh yeah! Willi sta provando a tar down Oh yeah! Ecco a voi, William Wallace William Wallace Eh, però non basta! Oh yeah! E' una persona a marcia Wow! 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 Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Dolcezza e rispetto Ah! 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 La Subaru Baraka fa scattare la clonch Oh yeah! Oh yeah! А! Oh yeah! Oh! Oh la! Oh my god! Oh god! Oh my god! Wow! 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 Grazie per la visione!